Un po' come quando si stila un resoconto dei beni a disposizione, in virtù di una gestione più consapevole e responsabile. A Pescara si va in ricognizione di edifici di valore storico e culturale per rendi contare valore, interventi e stato di utilizzo. La ricognizione è tutto quello che è il patrimonio culturale della città. In base all'articolo per i codici dei beni ambientali, l'articolo 10, il comma 5, è stata fatta una ricognizione a tutto tondo di tutto ciò che è il bene culturale della città, i beni culturali della città, il nostro patrimonio. Io voglio sottolineare l'importanza di questa divisione che il sindaco Marco Alessandrini ha voluto con forza. Perché è importante dividere e dare importanza al patrimonio culturale? Perché è tramite il patrimonio culturale che può cambiare veramente il cittadino e che si può realizzare il bene comune, che inizi questa nuova civilizzazione della nostra città. Promosso a pieni voti l'Aurum, che di fatto resta un'opera riportata allo splendore da quello che una volta fu il sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, e che oggi torna nelle mani della sua ex giunta. Nota dolente invece da recuperare l'intervento sull'antico teatro Michetti. L'ex aurum sicuramente è il nostro fiore all'occhiello, così ben restaurato nel 2007 dall'allora sindaco Luciano D'Alfonso, costituisce veramente un unicum in tutta la riviera adriatica. Pescara è piena di luoghi che dobbiamo rivalutare, per cui il Michetti sicuramente è uno degli obiettivi primari della nostra amministrazione e sempre grazie alla Regione Abruzzo e al suo presidente che potremo fra poco iniziare i lavori di riconsolidamento statico della struttura.